Oddio, hanno accettato! Chi? L'atelier di moda, dove ha lavorato mia nonna! Davvero? Davvero! Sì, incomincio un'edì prossimo, non vedo l'ora! Ragazze! Lei so fine, resterà con noi per le prossime due settimane! Ciao! Ti mostro un po' come funziona qui, anche se per ora potrai solo osservare. D'accordo. Ti piace questo? Sì, molto. Ha bisogno ancora di qualche ritocco, però a breve verrà confezionato insieme agli altri a Milano. Sì, anche se per ora potrai solo usare un po' come funziona. Sì, anche se per ora potrai solo usare un po' come funziona. Sì, anche se per ora potrà solo usare un po' come funziona. Sì, anche se per ora potràwaterosi uno! Sì, anche se per ora potrà un po' come funziona. Sì, anche se per ora potrà, allenata e un po' come funziona. ehi a fianco a taglia arrivo subito ciao sono sofia ciao buongiorno si vai attenta che qui è pericoloso ti fai male diverso da scuola ok però preferirei stare qui al mio sogno da quando ero piccola il capo mi ha appena riferito che la consegna è stata anticipata alla fine di questa settimana non abbiamo tempo da perdere dobbiamo muoverci faremo anche gli straordinari se serve prendi quello marta devi velocizzare il lavoro così non va bene non abbiamo tempo da perdere si ho capito posso scegliere questi due lembi certo grazie marta ti avevo detto di distruggere l'abito in questo labito perché non l'hai fatto sbrigati sofia aiutami a sistemare la soft afferra quel pomello distendile sul telo e fa attenzione che potrebbe essere caldo dopo la forza lì ancora v ну si si